allora buongiorno a tutti se sentite un po' dei rumori sapete il motivo e riprendiamo anche il discorso che stavo facendo nell'ultimo buongiorno un cazzo perché subito sono partiti i moralismi come al solito inutili detto questo bentornati e ben ritrovati e buongiorno un cazzo veramente oggi è martedì non è lunedì ma sapete che io però quando il lunedì c'è il pagerone le formula 1 questo video lo faccio slittare a oggi come al solito e mi sono svegliato e non mi sono lavata perché questo quello che volete la mattina presto e quindi manco il capello anzi mezzo sistemato a sto capello io la voglio da che se non sto in condizioni veramente pietose barra ridicole ecco detto come attaccano pure la musica tanto preparatevi anche che poi poi balliamo al ritmo di samba al ritmo di rumba detto questo metto un po' di latte in realtà prima di registrare questo contenuto mi sono alzato ma non sono solamente andato al bagno sono andato fuori a sistemare le belve quando parlo di belve parlo di tre new entry tre porcellini che sono arrivati che ha partorito la gatta e che in realtà fino a un paio di settimane fa sono un paio di settimane in realtà che stanno che che le abbiamo scopati e non ce ne eravamo accorti sta micia è passata inosservata partorito e niente li ha praticamente tirati fuori o meglio me li ha portati qui sopra il mio balcone così de punto in bianco perché sa che qua stanno al sicuro sa che io non gli faccio niente sa che io li aiuto li nutro gli do da mangiare perché sono ancora sono svezzati ma ci c'è ancora la sisa e quindi li ha portati qua sopra e stamattina sono uscito fuori ho sistemato pure i pappagalli ho buttato i fuori perché dai cinque e mezza che stanno a fa un macello e niente quindi ho dato da mangiare anche a loro stamattina belli tranquilli sistemati se stavano a divertire allora moralismi l'altro giorno subito perché uno non può dire assolutamente nulla uno dentro casa sua non può essere infastidito da nulla perché subito se manca di rispetto a qualcuno che sta lavorando e mi chiedo ma il rispetto per me che lavoro 16 14 certe volte anche 18 ore al giorno e che dormo certe notti quattro ore certe notti 5 certe notti arrivo a 6 perché sto rispetto per me non ce l'avete perché ce l'avete pensate che so lavorano solo loro pensate che nessuno va a lavorare nessuno se sveglia mattina presto vanno a lavorare non voleva essere una mancanza nei confronti di chi lavora era semplicemente un dentro casa mia vorrei avere il diritto di lavorare anche io non so se mi sono spiegato ecco perché ognuno c'è i cazzi sua la propria vita non è che lavorano solo loro lavoro pure io e va bene detto questo così poco imparate ogni volta a fare i moralismi rispetto rispetto abbiate rispetto di voi stessi prima di prima di parlare perché dite solo stronzate e non capite quello che è il senso del discorso ok ce tenevo perché sapete come sono fatto io non so tipo che se sta zitto io parlo se devo dire una cosa dico non è che me devo tenere boni i followers così tanto perra esiste proprio è ok va bene detto questo volevo di un'altra cosa un po' sono stressato è vero sono stressato c'ho bisogno di riposo c'ho bisogno di una pausa è ricominciato il campionato i ritmi del lavoro sono aumentati drasticamente vertiginosamente e quando aumenta lo stress ovviamente poi ne risente anche il fisico il fatto che non sto facendo attività fisica mi sta ovviamente aumentando i livelli di stress però la buona notizia è che l'estate è praticamente finita a mare non c'è sta più nessuno e che io appena mi libero da sto tour de force di questi giorni lavorativi tornerò al mare finalmente a correre per chi si sta chiedendo hai fatto attività sportiva in questi mesi da maggio si due volte due volte e mezzo quindi non la possiamo considerare attività sportiva state tranquilli però che quello mi aiuterà sicuramente ad abbassare i livelli di stress non vedo l'ora di ricominciare oggi non ci riesco forse ci riesco domani non lo so dipende dagli impegni dipende se riesco a far combaciare di incastrare tutto detto questo quindi ho parlato anche dei micetti nuovi in realtà io mi avevo detto buongiorno buona colazione buon tutto quel che farete anche se mi farete una beata minchia ecco lo dico adesso ah no non era questo il video in cui lo dicevo faccio un goscio di latte e caffè mi devo svegliare che freschezza non mi ricordo volevo parlare di qualche cosa ecco ecco mi è tornato in mente allora per quanto riguarda i contenuti di questo canale per quanto riguarda formula 1 sto periodo sto facendo del mio meglio nel senso ragazzi registrare contenuti di formula 1 prende almeno due ore e mezza di tempo perché tra prove libere devi imparare il circuito qualifiche gara registrazione del contenuto edit del contenuto dietro c'è un lavoro che voi non potete immaginare io porto avanti ritornando al discorso del rispetto di chi lavora io porto avanti tre canali youtube sul primo pubblico tre video al giorno sul secondo pubblico un video al giorno su questo pubblico un video al giorno c'ho anche un'attività su twitch non so se bene siete resi conto faccio dirette tutti i giorni anche lì faccio il tip passer e studio le schedine pubblico le schedine oltre all'attività di youtube c'ho altre attività c'ho altre cose che faccio non so se lo sapevate non faccio solamente youtube ci ammazza quante cose fai non mi piace tenermi impegnato nella vita però nessuno mi dice porello perché in realtà non c'è sta niente da dire porello lavoriamo tutti come dicevo prima e poi si riallaccia tutto al discorso ovviamente dello stress e in cucina col gabbon tornerà con fabio è difficile ragazzi perché questo periodo torna sempre la sera tardi a casa e io non ci so tutte le sere a casa di là ovviamente quindi probabilmente lo registrerò io probabilmente preparerò io per lo meno il primo episodio so che lo state aspettando e poi mi avete chiesto la 72 ore cosa mangi in 72 ho fatto la 24 o la 48 arriverà anche quello arriverà un altro contenuto nuovo però ragazzi fatemi un attimo allentare veramente lo stress e poi non appena è affondo il colpo e ieri stavo a vedere delle immagini che mi hanno lasciato perplesso di una ragazza che credo fosse in italia in realtà che si è gettata nel nel vuoto e uno che è arrivato non so da quanti metri ma era bello alto c'era un cartellone pubblicitario su sto palazzo e uno che è arrivato decorsa e che praticamente è riuscito a prenderla e a salvarla e sotto sta notizia su instagram non mi ricordo che post era di chi era è inutile città fonte tanto è una notizia che riportata praticamente da chiunque la sto a riportare pure io è una cosa che è un passaparola di un ragazzino di 13 anni che è stato talmente tanto bullizzato che ha fatto la stessa identica cosa però non l'ha salvato nessuno io quando leggo queste cose resto veramente sconcertato ragazzi resto veramente sconcertato innanzitutto dalla cattiveria degli altri delle persone anche dei ragazzini piccoli perché quel ragazzino è stato bullizzato da ragazzini dell'età sua e io mi chiedo come possano i genitori educare il proprio figlio in questo modo non me venite a dire no perché ma che ne sanno ragazzi i figli crescono come vengono cresciuti dai genitori quindi se il ragazzino bullizza perché nei genitori qualcosa non va è quella la tara è inutile essere proprio per culo viviamo in un mondo di merda viviamo in un mondo in cui l'etica sta cambiando completamente valore o meglio non non ha più un valore l'etica non vengono più trasmessi i principi giusti alle nuove generazioni se poi andando avanti peggioriamo così tanto la colpa è la nostra che pensate di chi è c'è troppo benessere il troppo benessere io lo dico e lo ripeto sempre porta a questo perché se c'hai una guerra in corso ipotizzo e mi viene da pensare ai miei nonni o comunque a chi ha vissuto la guerra non 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 ti viene da pensare a cose del genere anzi in quel caso scatta il meccanismo opposto scatta la compassione nei confronti del prossimo scatta il volersi aiutare in momenti di difficoltà è tutto da riassume a questo valori che non trasmetterò ovviamente a valori nel senso bullismo cazzi vari è cose che a mia figlia non trasmetterò mai poi quando verrà mio figlio quando verranno gli altri 15 figli che ci ho messo a scherzare bisogna siamo noi che dobbiamo cambiare rotta siamo noi che dobbiamo cambiare il modo di di educare i nostri figli perché poi questi sono i risultati e un genitore che si ritrova un figlio che ha bullizzato un ragazzino che si è lanciato nel vuoto e che non ci sta più ma come sta con la coscienza sta a posto non è colpa sua il ragazzino ha preso ha fatto l'iniziativa sua e il figlio che ha ha bullizzato il discorso della donna è diverso perché la parliamo non lo so in realtà perché non erano spiegate le motivazioni non so se alla base c'è quello non so se alla base ci sanno altri tipi di problemi però so argomenti veramente che te lasciano io non ho più parole ragazzi non ho più parole più andiamo avanti e più il mondo veramente peggiora o se fa qualcosa per invertire la rotta e per tornare indietro e per rimettere tutti sulla retta via o non oso immaginare quello che succederà tra 10 15 anni perché poi diventa sempre più eticamente accettato è così è è una piaga però che ci vuoi fare purtroppo bisogna conviveci col bullismo non è così ragazzi non è così non è così fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti alla prossima con un nuovo video vi saluto ho parlato per 13 minuti grazie a tutti grazie a tutti